ciao amici valinvestor le azioni nvidia stanno schizzando alle stelle il giorno dopo l'uscita della trimestrale per il q1 2023 le azioni sono salite del 25 per cento in un solo giorno ma è tutta hype o è giustificato questo rally vediamo un po velocemente i dati principali della trimestrale per vedere come è andata sicuramente ha sorpreso gli analisti perché i risultati dichiarati da nvidia sono stati ben al di sopra delle previsioni sia per gli utili che per il fatturato ma soprattutto per il fatturato dando un'occhiata ai dati della trimestrale come potete vedere alla fine se guardiamo i valori anno su anno non sembrano bellissimi perché c'è un declino importante a doppia cifra sia sulle vendite che sugli utili però quello che è piaciuto al mercato secondo me è stata la grande ripresa trimestre su trimestre cioè nvidia si sta riprendendo molto più velocemente delle aspettative e soprattutto guardando lo spaccato dei vari segmenti di business è vero che il fatturato del gaming è sceso anno su anno ma ora l'unica cosa che conta per il mercato su nvidia sono le performance del data center dell'intelligenza artificiale che ha mostrato una bella crescita su base annuale e trimestrale ma quello che ha davvero fatto godere gli investitori e secondo me più di tutto spiega il decollo del prezzo di nvidia è stato l'outlook per il q2 gli analisti si aspettavano 7 miliardi di revenue ma nvidia ha detto no troppo pochi ne faremo 11 di miliardi perché c'è una domanda altissima per i nostri prodotti per l'intelligenza artificiale e questo outlook che è clamorosamente più alto di quello ipotizzato dagli analisti ha mandato letteralmente invisibilio il mercato ora la domanda che molti si staranno facendo è mi sto perdendo un treno dovrei cedere alla fomo e comprare nvidia allora partiamo dal presupposto che nvidia se fa questi numeri parlo di fondamentali vendite e utili vuol dire che chiaramente è molto più avanti della concorrenza e questo è pacifico che sia un'ottima azienda bisogna capire se è scontata troppa crescita nel suo prezzo troppa euforia oppure no secondo me dando un'occhiata ai multipli di valutazione mi sento molto scoraggiato da fare un ingresso così tanti multipli a tripla cifra per un'azione io difficilmente li ho visti forse era così nel 2000 per le internet companies ok ma diciamo che merita multipli sicuramente più alti molto più alti delle altre aziende visto che tecnologicamente molto più avanti della concorrenza ed è in un settore in forte crescita chiudiamo un occhio allora sui multipli e cerchiamo di capire nel discounted cash flow quanta crescita del free cash flow è scontata nel prezzo attuale di nvidia considerando un tasso di sconto del 10 per cento la risposta è 42 per cento all'anno per 10 anni cioè tra dieci anni dovrebbe fare quasi 127 miliardi di free cash flow cioè più di quello che fattura oggi meta può farlo magari riesce anche sarebbe poi un caso studio che farà storia se ci riesce verrà inserito nei libri di economia aziendale ma io non ci vedo tante possibilità cioè vedo molte più probabilità che non ce la faccia quindi passo serenamente il prezzo mi sembra troppo alto cioè il fatto è che ci vedo troppa euforia dopo la trimestrale gli analisti hanno alzato ad esempio il target price per nvidia a 450 dollari e meno di sei mesi fa il prezzo target medio per wall street di nvidia era di 175 dollari c'è un aumento di quasi il 160 per cento nvidia è passata da essere la venticinquesima società più grande al mondo tra quelle quotate alla quinta più grande in soli sei mesi personalmente mi sembra si stia correndo un po troppo con le valutazioni però se nvidia dovesse rispettare le aspettative di crescita che ha il mercato tanto di cappello e dirò serenamente che mi sono sbagliato fatemi sapere se invece voi avete intenzione di entrare in nvidia o magari ci siete già entrati un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da davide